Com'è che devo scrivere? Un momento, sto leggendo l'articolo Allora, non ti ho detto, dai Così facciamo... Ma il comunicato a tutte le caserne A tutte le caserne, dai E lo scrivi Al suo arrivo Al suo arrivo Il presidente Sarà accolto Aspè, uuuuh Dove sei arrivato? All'arrivo Allora, al suo arrivo Arrivo Il presidente Aspè, evidenzia, arrivo Eh sì Il presidente Sarà accolto Accolto? Sì Dai, tradizionali Dai? Tradizionali Tradizionali 21 colpi di cannone Ma, se al primo colpo lo beccano Sparono gli altri 20 o no? Che fanno i soldi? Non credo Non pensi Perché se prendi uno bravo Dici, ma al primo lo becchi E dai 21 Così che costano i colpi di cannone Dai un'alternativa Ma non 21 Cioè, poi va a spiegare Qualche'altra cosa Che non ha preso?